La politica locale si muova per fermare la cancellazione dei diretti tra Lecco e Milano Centrale. L'appello dei pendolari è stato accolto dal consigliere regionale del PD Raffaele Straniero, che ha presentato sul tema un'interrogazione a risposta scritta alla regione. Per quale motivo i treni della linea Lecco-Milano non arriveranno più in stazione centrale, ma a Rogueredo? E come mai nessuno è stato avvisato? Chiede Straniero. Sono corse estremamente utili per i pendolari che lavorano o studiano a Milano, proprio in virtù della posizione strategica in cui è ubicata la stazione centrale, per cui una deviazione a Rogueredo renderebbe difficoltosi se non impossibili gli spostamenti, spiega il consigliere regionale. E non si può far conto sui diretti da Sondrio e Tirano per Milano Centrale, perché sarebbero sicuramente insufficienti per trasportare tutti i viaggiatori e i pendolari, sia per la scarsa frequenza che per i limiti infrastrutturali che presentano le linee fa presente straniero, ancora più contrariato dal fatto che in occasione dell'ultimo tavolo territoriale, riunitosi in regione, era stato assicurato che non ci sarebbero state variazioni per i treni che servono il territorio lecchese verso la fermata di Milano Centrale. Dunque, la programmazione concordata tra regione e RFI non ha tenuto in considerazione le valutazioni dei territori interessati né si è preoccupata di informare i rappresentanti degli utenti e dei viaggiatori. Il consigliere richiede all'assessore regionale ai trasporti terzi proprio questo, ovvero per quale motivo nell'accordo quadro si sia deciso di modificare la stazione milanese e perché il regione non abbia informato i territori e i rappresentanti degli utenti e dei viaggiatori prima che venisse sottoscritto l'accordo.